I due bravi mi hanno fermato ancora e mi hanno intimidito. Io non volevo più fare trasmissioni per le ragioni che sapete, legate all'età e legate alla frase di mia moglie. Mi raccomando, stai attento a non dire sciocchezze. Però dopo questa meditazione e questa intimidazione eccomi qua ancora. Questa volta parliamo di miracoli. Allora io sono esterefatto alla mia tenera età di ciò che avviene con i telefonini, con la televisione, di tutto ciò che riguarda gli sms, i whatsapp, eccetera, eccetera, eccetera. Allora veniamo a una storiella. Io continuo a dire che questi sono miracoli e quando parlo con i giovani sono miracoli. È molto semplice. la trasmissione 0-1. È una roba normale. Allora quando io ero in tenera età si scriveva una lettera, si prendeva la lettera, si andava a comprare Franco Bollo, si metteva Franco Bollo, si spediva e poi si aspettava la risposta. E la risposta arrivava due giorni, tre giorni, quattro giorni, anche cinque giorni dopo e si rimaneva in una certa attesa. L'avrà ricevuta, non l'avrà ricevuta, come mai non mi risponde? E poi c'era la raccomandata e si faceva la raccomandata e arrivava la risposta. Passava un certo periodo di tempo a seconda. Poi le cose si sono evolute. Oggi ci troviamo in una situazione totalmente diversa. oggi uno vuole mandare una lettera e fa l'email. Allora quando uno fa l'email, per chi non lo sapesse, tanto bisogna che abbia catalogato il nome della persona o del soggetto a cui va a questa e-mail che sarebbe la lettera. Com'è la traduzione di e-mail, signor Parisi? Lo sa lei? Mail vuol dire posta. Mail vuol dire posta. No, no, perché è meglio metterli alla prova perché fa tanti furbi. Allora mail vuol dire posta, non lo sapevo, l'abbiamo imparata adesso. Allora è una posta elettronica, lei davanti vuole dire elettronica posta. E lì niente, ma è elettronica posta. Allora l'altro giorno, l'altro giorno Parisi mi chiede di mandargli uno scritto che aveva fatto. Allora questo scritto è di 48 pagine, davanti è del rio. Scrivo Sandro Parisi, lo cerco, l'email c'è, lo inserisco e poi vado a cercare tra i documenti questo mio scritto. Lo trovo, clicco, lo porto dentro nell'email e poi scrivo ti invio, eccetera. E clicco dove c'è scritto invia. Ragazzi, in un centesimo di seconda non so dire, mi è arrivata la risposta e il messaggio è arrivato. Come un messaggio è arrivato? Non è possibile che il messaggio... 48 pagine. davanti. Come ha fatto questo qui? È una cosa impensabile. Allora mi sono pensato, ma quando pensavo che mandeva una lettera e aspettavamo che arrivasse la risposta, diceva come mai l'ha ricevuta, non l'ha ricevuta e adesso in un lampo, in un lampo, ma che lampo, il lampo è ancora più lungo, le 48 pagine sono andate dal Parisi e dopo mi ha risposto, ho ricevuto il tuo coro, lo leggerò, eccetera. Questo nel giro di pochi secondi, ragazzi. E dopo mi dicono che non siamo di fronte a un miracolo. È miracolo. immaginate poi che un giorno a Malè, ero su a Malè da mia moglie, e squilla il telefonino in casa, vetri anti sfondamento. Travesse vetri anti sfondamento, tu c'era e tocchi il somma. Allora ho fatto una prova, c'è un cassetto, ho aperto il cassetto, ho messo dentro il telefonino, gli ho messo sopra delle maglie e poi una giacca a vento che avevo lì e glielo ho messo sopra e poi sarà il cassetto. Dico, beh, vuoi vedere se sono là. Dico, Lucia, fammi la cordia, fa il numero, fa il numero, drin drin, drin drin, non è possibile, drin drin, tiro fuori. Era una cosa. E non è un miracolo? Le finestre chiuse, il cassetto, le maglie e la giacca a vento sopra e lui ha suonato. Non è un miracolo? Ma tutti ti spiegano. E poi, a completamente della cosa, è venuto un signore lì di Malè che l'è il maestro Valenti, quello che ha insegnato alla scuola, la famosa Samantha, abita proprio di fronte a un voglio e abbiamo un ottimo rapporto, è venuto e gli ho detto, senti, dico, Marco, questo è un miracolo, perché pensate che oggi fa questo, si è messa lì, ma che mi ricorda che è Carlo? È l'attomo. Dico, l'atomo, l'atomo, dico, l'atomo, sarà anche l'atomo? Dico, la maglia, è cosa, c'è fatta di atomi. Dico, c'è fatta di atomi? Dico, c'è racca, c'è tutta. Ma no, Carlo, è l'attomo. E allora insieme abbiamo ragionato. Allora l'attomo, immaginiamo un campo sportivo, sto, immaginiamo un campo sportivo tipo salsisto, cos'è quello di Milano? Salsiro? Ah, ma che gli ha fatti ovali, no? Campo ovale. Allora, l'attomo, parla il maestro Valenti, lo sapevo anch'io, ma insomma lui era più moderno del sottoscritto, nel centro del campo sportivo mettiamo il nucleo, perché l'attomo è composto di un nucleo centrale positivo e tutti intorno, una specie, immaginiamo, una specie di maratona, di elettroni che girano intorno. Allora, tra gli elettroni e il nucleo, qui è uno spazio. E il distante spazio va dentro le onde e arriva il telefono. Se l'hai pensato di traverso le onde? Perché i tessuti sono fatti di molecole, le molecole sono fatte di atomi e le onde le passano in mezzo. Però io sono sempre rimasto dell'opinione che nonostante che gli atomi si portano a passare in mezzo, che i vetri sono fatti di atomi, che la giacca vento è fatta di atomi, gli atomi sono fatti di molecole, il Carlo Tamanini continua a dire è un miracolo, sottolineato. Per me è un miracolo. E la televisione parte l'onda da Roma, la parte l'onda arriva in cima a quella che stiamo trasmettendo anche adesso, arriva in cima al tetto, dal tetto che è un film che va e ti te la vedi e a un certo momento ti vedi l'immagine del Carlo Tamanini, che mi auguro non dica monade, ma insomma potrebbe anche darsi. Ecco, ma dico attraverso onde, non attraverso fili, parte delle onde, allora immaginate un giorno, ma se queste onde chi le fosse tutte colorate? Ma ve le immaginate? Uno non riesce a passare per strada, perché questa è l'onda verde, l'onda azzurra, l'onda cosa, poco la storia della sinistra e la destra, che saranno le onde di sinistra, le onde di destra, per fortuna che non le onde non le diventeranno onde dei partiti, sennò che sarebbe un gran casino generale. Ragazzi, siamo di fronte a miracoli, lasciate che gli scienziati ci spieghino e ci dicono tutto quello che vogliono. Sta di fatto che il mio telefonino, del cassette, con le maglie, con la cosa, ha suonato, quindi per me è un miracolo.